Buongiorno a tutti, siamo a Host 2021 qui a Milano e siamo qui allo stand di CIS con Antonello Mucci, l'amministratore delegato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ci vuole un po' parlare della sua azienda? Siamo un'azienda specializzata nell'approvvigionamento di componenti ricambi per macchine da caffè professionali, oltre che di componenti ricambi per la parte beverage, quindi vino, birra e quant'altro. Qui, specifica, come fiera, siamo a presentare i nostri prodotti per il settore caffè. Abbiamo una gamma più o meno completa di tutti i ricambi per macchine da caffè professionali per i principali marchi. Non ci fermiamo solo al prodotto, ma quello che stiamo cercando di valorizzare è un servizio al cliente in termini di disponibilità di materiale e di consegna, soprattutto in un periodo, diciamo, complicato come questo post-pandemia. Sì, esatto. A proposito, appunto, come sta andando questo periodo post-pandemia e come sta andando la fiera? Ormai possiamo, appunto, fare una summa, no? Dell'andamento, essendo al penultimo giorno. Allora, il periodo post-pandemia è complicato, ma l'ingranaggio sta ricominciando a girare in maniera buona. La fiera, direi, oltre ogni aspettativa. Sicuramente ero abbastanza pessimista e invece mi devo ricredere. Siamo contenti.